che è quella di alzare la stile della qualità. Tra le cose per cui si giudica... Tutto qua, vi ringrazio, mi scuso per il modo, perché comunque voi in piedi non è... Tutti ci chiedono di fare così, visto che lo facciamo, abbiamo altri eventi, abbiamo qua i 7 assoli provinciali con cui poi sottotitiveremo l'accordo, c'è un ragionamento che riguarda le province e la regione. Seconda la terza coppia, io chiamo il Comune con il nome... Vanno gadiati a vedere il meglio per farlo proprio, anche nei comuni, in alcune iniziative che abbiamo... Chi non ha filmato, vada piano, chi non ha filmato, vada piano, eh? Finiamo le firme, faccio il controllo, punto per l'altro, e restituire il canto. Grazie a tutti.